Non l'ho capito, ma che è successo di preciso? Ma è successo? Venerdì sera all'imbrunire era? No, era buio. Buio? Aveva messo la macchina nel parcheggio delle RAI, quello che ho studiato. Buio. Era lì che armeggiava con le chiavi, no? Per aprire la macchina. Solo aveva le cuffie, perché sai, da quando l'hanno fatto direttore di Radio RAI, lui aveva sempre le cuffie a palla, musica a palla, sempre, sempre. Poi era buio. Buio? Buio. Macchina scura. Lui scuro. Buio. Buio. Wow. Poi la guardia gli ha detto, si volte si faccia riconoscere, si faccia riconoscere, tre volte gli ha detto proprio, alla fine... Ma lui si sarà anche girato, ma tanto a buio non l'ha visto. E che so? Alla fine gli ha sparato. No. È un colpo. È buio. Anche presto. Che culo ti amigliano a te. Non tu lo vedi ti amigliano per il culo? Ma chi sei, incoglionita? Ti pare che è morto di infarto, di infarto? Perché ne faceva troppe, troppe, telegiornali, quiz, San Remy, San Remy, che tra l'altro, ora secondo me non voglio invadere, ma io, pensate, ero bello e pronto, aveva una canzone perfetta e lui mi prendeva, me l'aveva detto, aveva una canzone perfetta per San Remy. Io sono il titolo, passerà, sta bella. Eh, lei andava a San Remy, ora lei andava a morire. Che mi va, a Giletti, non mi piglierà mai. Com'era sta canzone, passerà cosa? Non so se sì, cioè ve la posso fare a cappella. Eh? No, secondo me era perfetta. Era, faccia così. Poi vabbè, immaginatevi la musica. Era passerà. Già, ci si commuove. Passerà. Quella voglia che ho sempre dentro, che mai passerà. È un desiderio che provo dentro. Mi sento forte la mancanza. Passerà, passerà, passerà. E se non passerà, la mia mano interverrà e come sempre mi consolerà. Poi con la musica. Poi c'è questa signora, ma che cosa sbavi? Mi stai sbaglando sulla giacchetta sacra?